Musica e sport legate dal filo della solidarietà. La città di Ferrara si mobilita per sostenere l'Ado e lo fa con due iniziative in programma il prossimo weekend. Si parte venerdì 19 maggio nella Basilica di San Giorgio alle 20.30 con il concerto di Beneficenza che vede protagonista l'ensemble Antigua Estensis, il cui ricavato sarà devoluto proprio a favore della nuova struttura in fase di realizzazione, la Casa del Sollievo. L'evento è organizzato dall'Aion del Basel in collaborazione con la parrocchia di San Giorgio, l'ensemble Antigua Estensis, il Circolo Culturale Gino Neri e la Fondazione Ado. Sabato 20 maggio invece il protagonista presso il Palapalestre sarà lo sport. La SD CSR Jiu Jitsu Italia organizza uno stage internazionale dal titolo Sport e Beneficenza proprio in favore della Dondus. L'appuntamento aperto a tutti, senza distinzione di stili, federazioni e associazioni, è patrocinato dal Comune di Ferrara, dal CONI regionale Emilia Romagna, dalla NOAI sezione di Ferrara, dal Panatron Club di Ferrara, dall'Ado e dalla WISP Comitato Provinciale di Ferrara. Anche in questo caso il ricavato sarà destinato al progetto Casa del Sollievo. È una piccola città nella grande città di Ferrara dove i nostri ammalati non solo saranno ricoverati ma avranno la fortuna di poter assistere nel nostro teatro gli eventi che verranno eseguiti dai giovani, i convegni, la musica, il teatro, qualunque cosa, le scuole di ballo che possono rappresentare gli eventi, le scuole che potranno fare le loro cose. E gli ammalati non devono solo tutto il giorno guardare il soffitto, no, ma seguiranno nei corridoi e andranno direttamente al teatro dove potranno assistere. E in quel periodo che assistono gli eventi non si sentiranno né soli né malati ma gli regali qualche ora di vita. Questo è lo spirito per cui si costruisce la città, questa nuova struttura chiamata Casa del Sollievo. A Ferrara e Provincia abbiamo 175.000 famiglie. Se ogni famiglia compra il mattone che costa 50 euro, noi abbiamo i soldi per finire la casa. Allora con 50 euro compra un mattone, vedrai costruita una casa, è inciso il tuo nome perché è un bene di tutti e tutti devono partecipare a questo evento.